Buongiorno a tutti gli investitori di Traster, sono Nicola Gabrovec, amministratore della società Reabit SRL con la quale stiamo facendo l'operazione di via Fieschi a Genova. Vi mostro ora brevemente le opere che stiamo facendo e ormai siamo in conclusione perché abbiamo stimato che in circa 20 giorni chiuderemo questo cantiere. Allora ci troviamo in questo caso nel primo bilocale, ora vi mostro intanto la zona comune. Qui abbiamo il portoncino caposcala e che servirà i quattro nuovi appartamenti. Qua abbiamo creato questo corridoio in condivisione. Allora come vi dicevo questo è il bilocale, abbiamo questa zona living dove qua inseriremo la cucina, qua il primo balcone e l'altro balcone. Questa è la camera da letto nella quale abbiamo inserito una spaziosa cabina armadi. E qua ci tengo a farvi vedere una particolarità perché ci troviamo a 75 metri d'altezza nel pieno centro di Genova. Siamo a un diciottesimo piano e come vedete c'è una bellissima vista mare e città. Là abbiamo il monte di Portofino e ultima cosa vi mostro il bagno dove abbiamo anche qua un piccolo balcone che abbiamo ricavato che fungerà anche dalla zona come vedete qua la lavanderia. Ora vi mostro gli altri immobili. Qua andremo a mettere un grass effetto marmo che ora è coperto purtroppo non si può vedere. Qui abbiamo un monolocale dove siamo riusciti a creare due stanze. Qua è la zona cucina e qui la camera da letto con un cabina armadio. Qui abbiamo inserito degli infissi a tutto vetro e in questo caso la vista è su parte dello stabile e in parte sulla città. Come vedete questo è completamente finito. Questo è il secondo monolocale. Qua abbiamo creato un angolo come facciamo spesso la lavanderia e qua c'è il bagno delle proprie. Come vedete forniamo già tutto in dotazione quindi compreso. Qua abbiamo un ripostiglio e un angolo cabina armadio. In questo caso si tratta di un monostanza quindi avremo l'angolo cottura e il letto posizionato nello stesso locale. E qui abbiamo la vista diciamo migliore rispetto a prima sul centro storico. Ora vi mostro l'ultimo bilocale che è anche il più grande come misure dove stiamo terminando le opere infatti stiamo finendo le rasature e completando il bagno e a breve verrà anche posato il parchè. Qui abbiamo l'angolo cottura. Questo è il primo balconcino. Abbiamo un altro balcone. Come nel primo caso dell'altro bilocale abbiamo una stupenda esposizione sempre mare e città. Qua abbiamo creato un ripostiglio. Ora vi mostro la camera che è anche questa molto bella in quanto abbiamo messo un enorme cabina armadio perché si trattava del precedente soggiorno e quindi un vano molto grande. Qui abbiamo una stupenda vista sulla città nella parte nord quindi collina e questa la cabina armadio che stiamo finendo le rasature. Come aggiornamento sulle vendite abbiamo ad oggi venduto un immobile che dovremo rogitare entro questo mese e abbiamo ricevuto varie proposte sugli altri che per ora abbiamo rifiutato perché stiamo cercando di ottimizzare le vendite in quanto si tratta di immobili come avete visto unici nel loro genere soprattutto in termini di metratura ed esposizione e soprattutto anche con un grado di finitura molto bella ed introvabile nel centro della città. Vi faccio un saluto e grazie ancora per la fiducia che ci avete dato. A presto! Grazie a tutti!